Nella vita, spesso le scoperte portano ad altre domande. L'unica costante variabile è il cambiamento. Non ne abbiamo il controllo. Solo guardandoti indietro vedrai come tutto era collegato. Vogliamo cominciare? Mmm, è perfetta. Amo cucinare, è solo chimica. Lei ha un passo da una scoperta rivoluzionaria. Questo istituto ha una reputazione che si basa su scienziati importanti, non su teorie speciose di un tecnico. No, abbiamo delle regole. Mi state licenziando? Vorrei offrirle un lavoro come conduttrice nel nostro programma di cucina. Ha battuto la testa? No, lei è pronta per diventare una star della TV. In onda tra 5, 4, 3... Benvenuti. Questa è cena alle 6. Mi serve forse uno slogan. Non pensarci troppo. Non ho mai capito questa frase. Io sono una sostentitrice di chi fa il grosso del lavoro in cucina, le donne e le patate al forno. Ma che... Tu hai qualcosa che non ha quasi nessun altro. Un vero palcoscenico. Quello che dici ha un peso. La politica deve rimanere fuori dalla cucina. Un uomo vuole che sua moglie gli prepari un drink dopo una lunga giornata di lavoro. Perché la giornata di lui deve essere più lunga di quella di lei? Perché non lo fa lei il drink? Sei quanto di più prezioso al mondo. Non perché sei bella o intelligente, ma perché mi ami e io amo te. Non ce la posso fare. Credi di non farcele? Ce la fai comunque. La vostra abilità di cambiare tutto inizia qui. Bambini, apparecchiate. Vostra madre ha bisogno di tregua.